I carabinieri del nucleo investigativo in collaborazione con i militari dell'aliquota radiomobile della compagnia di Campobasso hanno arrestato un 23enne di Campobasso già noto alle forze di polizia, destinatario di un mandato d'arresto europeo disposto dalla Romania. I carabinieri della compagnia di Larino hanno denunciato un 57enne di San Severo già noto alle forze di polizia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nell'ambito dei contributi dell'Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura alla legalità, prosegue il ciclo di incontri con gli studenti degli istituti scolastici della provincia, così come predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Isebola. Sarà la dottoressa Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, la relatrice d'eccezione del convegno su bullismo e cyberbullismo. Sarà il cantante Povia, l'ospite d'onore di Tutti Cantano Sanremo, in programma domenica 18 marzo alle 20.30 presso l'auditorium Unità d'Italia di Isebola. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS